È strano, Stewie. Tu parli da sempre, ma perché tutti ti capiscono solo adesso? Non lo so. In quel momento ho provato un'emozione così intensa che quella parola chissà come è schizzata fuori. E ora che succede? Possono capirti tutti? No, non credo. A meno che non gridi qualcosa in cui mi sento coinvolto. Greta Gerwin è un tesoro nazionale! Visto? Niente. Forse non ci tengo, non lo so. E se fosse la sola cosa che saprò mai esprimere? La rabbia. Allora che razza di persona sarei? Larry David, Louis Black, uno che vota Trump, tutti quelli su Twitter. Ma io non voglio essere nessuno di loro! Mi devono sentire! Gelato! Lecca-lecca! Bollicine! Gattino! Cagnolino! Impermeabile! Asilo! Autopompa! Pesce rosso! Vittura a dita! Bene. Sembra che qualcuno si sia alzato tardi. Già, io tendo a dormire un po' di più quando riposo sotto un enorme orso peloso. Oh no! Fanno battute a sfondo gay senza di me! Shh! Va tutto bene. Adesso ne fai parte anche tu. Iniziamo! Facciamo un tentativo. Ma di solito questo si fa in aree commerciali vicine a Little Caesar. Stracacacchio! Che è successo? Bene, abbiamo scoperto la sua vera altezza. Anni di postura sbagliata e di logorio le hanno schiacciato spirito e spina dorsale. Wow! Ora parliamo dei fattori di rischio. Conduce per caso una vita sedentaria? Una vita sedentaria? Le spiego. Deve rafforzare il baricentro e allenarsi regolarmente. E il cappello? Stupido, eh? I ragazzi non ci sono. Sgattaioliamo sotto al pontile e intratteniamo relazioni sabbiose. Non lo so, Peter. E dai, sono prontissimo. Ho ingurgitato un sicchio di ostriche laggiù dove la schiuma è bellissima. Ce la fai in meno di due minuti? Quando mai ti ho deluso? Ok, presto. Prima che tornino. Ah, eccoli! Quelli di qui mi hanno ribattezzato crosta insabbiata e hanno proprio ragione. Si prega di inoltrare la posta al nuovo destinatario. Eppure eravamo così vicini a sfignarcela. Mi dispiace, Peter. Andrò a gettare questa cartaccia nel cestino dei rifiuti. Ci vediamo tra 45 minuti. Ah, accidenti! Vattene via, polte! Sono tuo figlio, coglione! Per favore, sta facendo una scenata. Io posso fare tutto ciò che voglio. Sono il padrino. Mi dispiace, signore. Non lo sapevo. Sono Stanley Tucci. Bobby Carnavale. Ehi, camerieri portoghesi che fingete di essere italiani. Portate al padrino tutto quello che vuole. Il padrino? C'è un nuovo padrino. Guardate questo muore. Come va Venezia per cose brutte? D'ora in poi potrà mangiare gratis e verrà trattato con il massimo rispetto. Oh, padrino. Grazie. Ora potete dare il mio nome alla portata che ho ordinato. Bocconcini, a forma di tenosauro. Troveremo qualcos'altro. Vattene. Bruce, non abiti nella nostra strada? Sì, la mia casa è quella all'angolo. Sapete, quella di un viola fuori contesto, con tutte le piante del deserto. Ah, la conosco bene. Ho lasciato i ricordini del mio cane sul tuo prato sintetico tante volte. Benvenuto. Quale mano? Eh, dove? Questa mano, testa di legno. Peter, si può sapere che ti prende. Tu non sai un bel niente di politica. E tu non sai un bel niente di come si fa a atterrare un aereo, stronzetta. E inoltre Wild West sarebbe un grande sindaco e un uomo... E questo adesso che diavolo c'entra? Perché siamo in America, Lois. Gli uomini hanno sempre gestito tutto e non ci sono mai stati problemi di alcun genere. E non tirare fuori l'economia, l'Iraq, la disuguaglianza economica, il razzismo, Brett Kavanaugh, l'inquinamento, il Vietnam, la schiavitù, il Watergate, il capitalismo, il Me Too, i senza tetto, la brutalità della polizia, l'omofobia, Monica Lewinsky, le sparatorie a scuola, il genocidio dei nativi americani, le Fox News, Tim Allen, i cambiamenti climatici. Fai una giusta osservazione. Beh, fottetevi tutti. Pauta Ketpet è un eroe. Quella statua non deve essere tolta. Fa parte della storia, proprio come Caterina la Grande. Mio grandissimo popolo di Russia, come vostra imperatrice, il mio lascito sarà espandere i confini della Russia, accrescere negli eserciti, costruire grandi edifici che verranno ammirati per secoli. Abbiamo sentito che hai fatto sesso con un cavallo. Ho stretto forti alleanze con le più grandi potenze europee. Sì, ma il sesso con il cavallo? Niente sesso col cavallo. Il tizio ti sta importunando, Ketit... Me la vedo io, cazzo. Questo mi ha spinto a chiedere un esame genetico alla 23andMe. Chris! Dice che ho una predisposizione verso la caffeina. Come è vero, come è vero. Neanche mi metto in moto senza divento tutto. Quanta altra roba c'è là in mezzo? Non ho il gene dell'Alzheimer, per fortuna. E dice che non ho il gene dell'Alzheimer, per fortuna. Aspetta, quello cos'è? Non era niente. Oh mio Dio, Brian! Sei 1% gatto! E in parte nero. Cosa? Frena! Scherzavo sulla storia del nero. Era un test. E tu? Questa è la più grande griglia in ceramica ad alte prestazioni disponibile, Peter. Certificata NSF. Oh cacchioso, muoio di fame. Quando è che possiamo accenderla? Cosa? Accenderla, hai detto? Ma tu guarda questo! Non basta solo accenderla. Devi lentamente portarla a temperatura. Ok. Quando cuoceremo gli hamburger? Hamburger? Ma sentite questo! Non si cuociono hamburger su una griglia di questa qualità, Peter. Ho un pollo ruspante d'occhi in salamoia da tre giorni. E quello lo possiamo cuocere? A mezzanotte quando avrà raggiunto la temperatura. Perché mi hai fatto venire ora? Perché mi devi aiutare a spostare la griglia di un centimetro. Andiamo ad ascoltare un po' di musica col mio nuovo impianto stereo. Salta su! Ehi Peter, guarda qua, la mia nuova sedia a rotelle elettriche! Ehi! Ehi! Serve una mano? Tutto ok, ho scritto a Bonnie. Aspetta, ha risposto con l'emoji del pollice in giù. Eh sì, accetto con la mano. Quagmire! Quello è il prossimo obiettivo. Non mi piace, papone. Dicono che il loro buffet della colazione è come Fort Knox. Troverò un modo per entrare. Dopotutto mi sono imbucato alla festa di Brian Singer. Scusami, quanti anni hai? Non sono maggiorenne in nessun luogo al mondo. Divertiti, dillo a chi vuoi, tanto qui non interessa a nessuno. Perché questa storia gira intorno alla mamma? Vogliamo far riposare la voce di Seth? Lois, c'è un ragno nella mia sacca da golf, lo devi uccidere. Peter, perché c'è una montagna di avanzi sotto il tavolo vicino alla tua sedia? Cosa? Oh, è quello schifo che cucini. Non preoccuparti, li mangerà Brian. Brian se n'è andato. Si è trasferito da quegli snob della famiglia Anderson. Oh, giusto. Beh, questa allora è l'occasione perfetta per fare una cosa che voglio fare da sempre. Ragazzi, riunione di famiglia! Ora che non c'è più un cane in casa, possiamo finalmente buttare cose schifose nel cestino aperto del bagno. Io ho un Kleenex insanguinato di quando mi sono soffiato forte il naso. Buttalo dentro! E la carta igienica insanguinata quando strofino troppo forte? Tutto l'insanguinato per sfregamenti o soffiamenti va qua dentro! Non sono orgoglioso di questa famiglia. Trugi, mi piacciono i tuoi pantaloni verdi. Oh, grazie, li ho trovati piegati in un gabinetto. Voglio dire, compro solo pantaloni da aziende che donano lo stesso modello a un paese del terzo mondo. Corri a casa con questi preservativi militari in ducco scaduti. Assicurati che li usino! Tu vuoi firmare questa petizione per salvare l'allocco ammaculato? Sì, volentieri! Cichissimo, sei la nostra cinquantesima firma! Quindi che succede ora? Bok! Aspetta! Bok! Hanno raccolto cinquanta firme! Sono proprio cinquanta! Beh, ok, torniamo nel furgone. Cioè, ora non dovete aver più paura. Mi brude ancora! Papo, sto reggendo la scala! Giorno, famiglia. Che cosa ci fa quella cosa ancora qui? Questa cosa si chiama Pouncy ed è il mio gatto ora. Cosa ne pensi, Pouncy? Ci dividiamo una scatoletta di tonno? Una scatoletta di tonno, ma lasciaci l'acqua. Questa è la mia Meg. Ma siamo la tipica famiglia col cane. A voi sta bene questo? Non prendo più decisioni per la famiglia da quando hai comprato il rumba per rimpiazzarmi. Soggiorno completato. Ti ringrazio, rumba. Tanto non sarai mai la loro madre! La scatoletta di tonno, ma lasciaci l'acqua. Grazie a tutti.